Ciao a tutti, io sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto a portarvi un prodotto molto interessante se state cercando uno smartphone che abbia un costo contenuto e prestazioni discrete. È di TP-Link, si chiama Nefos X1. Guardiamolo insieme. Eccoci dunque a dare un occhio al nuovo Nefos X1, il nuovo prodotto del mondo di TP-Link che arriva con la caratteristica fondamentale di questa struttura in materiale metallico che comunque ci offre un telefono particolarmente leggero, 135 grammi, materiale metallico ovviamente in tutta la struttura tranne la parte superiore e inferiore dove ci sono le due bandi in plastica che allocano le antenne. la zona delle antenne. Sulla parte posteriore il sensore di impronta digitale, il flash a due toni e poi la fotocamera da 13 megapixel, il sensore il Sony IMX258. Davanti invece la fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura 2.2. Invece è interessante notare che la fotocamera posteriore con l'apertura 2.0. misure di questo oggetto, 142 mm per 7,1 cm, quindi 71 mm, mentre lo spessore è di 7,95 mm. Guardando il telefono ci sono alcune particolarità, una delle quali è questo pulsante sulla parte laterale, che vedete questo sedettore, questo interruttore per mettere o togliere la suoneria al telefono. E poi c'è il cassettino che può contenere la nano SIM oppure, se volete anche potete inserire una seconda nano SIM, oppure la nano SIM con l'aggiunta della micro SD. Per quanto riguarda la memoria, allora due tagli da 16 e da 32 giga, questo è il modello da 16 giga con 2 giga di RAM, quello da 32 giga di memoria invece ha 3 giga di RAM. Il sensore è un sensore di Mediatek di buon livello, un P10 octa-core, che insomma tutto sommato si comporta abbastanza bene. Ma vediamo insomma il telefono da vicino come va. Intanto bisogna dire che la velocità generale di questo processore è buona. Il Mediatek Helio P10 diciamo che ha un buon livello di rapporto tra i consumi e le prestazioni. Adesso starà caricando ancora la pagina, vedete, stiamo caricando ancora la pagina, la lineetta blu ancora in funzione, quindi probabilmente spostandoci in alto e in basso potrebbe avere qualche indecisione il telefono. Però tutto sommato, vedete, si comporta bene. Vi faccio notare anche il buon livello per quanto riguarda il display del bianco. Per l'angolo di lettura del display, vedete che tutto sommato non è male, anche se sul display avremo qualcosina da dire, perché solo 720x1280 pixel, quindi solo HD, mentre oggi per questa stessa cifra, la cifra di 199 euro, potete trovare facilmente altri prodotti che vi offrono essenzialmente una soluzione full HD. Vi faccio notare però che per quanto riguarda il display avete la possibilità di leggere e di modificare la temperatura di colore. Lo vedete in questo punto, adesso ce la farò essenzialmente a muovere questo sensore maledetto, che vedete in questo caso non vuole rispondere. Non riesco a capire, eccolo qua, scusate, non riuscivo ad agganciare il pirolino con cui, insomma, portare il display da una temperatura più calda ad una temperatura più fredda. La luminosità massima del display, vedete, più che buona, anche in questo caso con un angolo di visione comunque discreto, ecco, peccato per il fatto che, insomma, purtroppo con questa definizione 720x1280, insomma, ci siano altri prodotti che possono un po' surclassare questo oggetto. Fotocamera, ecco, fotocamera molto semplice nel suo funzionamento, qui vedete quello che è il famoso effetto bellezza che piace molto ai produttori che, insomma, utilizzano prodotti in arrivo dalla Cina. Cerchiamo di vedere, di fotografare immediatamente un oggetto sul nostro tavolo per vedere anche il tempo di messa a fuoco, vedete, la messa a fuoco semplicemente con un tocco sul display e poi, vedete, scatto e memorizzazione abbastanza veloce. Guardate quando appare la foto qui sotto, ecco, per mostrarvelo riscatto un'altra fotografia, vedete, scatto e un buon livello di memorizzazione. Come sempre, quando volete controllare la vostra barra di notifiche, quando siete in modalità fotografica, basta uno swipe in questa direzione, mentre vedete che in questo modo, con uno swipe verso l'alto o, al contrario, verso il basso, potete attivare alcune delle funzionalità della fotocamera. Vedete che potete scegliere di passare alla slow motion, al time lapse, al panorama, oppure al time lapse, oppure alla fotocamera normale. Qui avete le ulteriori, poi, funzioni che avete a disposizione, quindi potete scegliere la dimensione dei video e delle foto che potete scattare. Vedete che sulla fotocamera posteriore potete arrivare anche a 1080 pixel, anche sulla fotocamera anteriore potete arrivare ad una dimensione di 1080 pixel. Se volete invece 16 noni sul vostro display dovete scegliere una misura da 9,4 pixel, sono 3,7 invece, se volete, i 16 noni anche sulla fotocamera anteriore. Ah, ne approfitto per farvi vedere una cosa già che ci sono in questo momento. Guardate, i tasti funzione sono sulla parte posteriore del display, quindi sono tasti fisici, però curiosamente non sono illuminati. Quindi, in alcuni casi, quando dovete affrontare alcuni passaggi, che potrebbe essere, ad esempio, al buio, riuscire a trovare il pulsante giusto da scoprire, vedete, trovare il tasto multitasking che è in questo punto e il tasto back potrebbe essere abbastanza complicato. Vado a mostrarvi, se adesso avete ancora qualche secondo di pazienza, anche come si comporta questo telefono con il gaming. Abbiamo detto un Helio P10, un octa-core con un buon livello di funzionamento. Tra l'altro, il telefono è discretamente veloce in un po' tutte le sue funzionalità, perché scatta in 0,2 secondi. Allora, adesso bisogna fare un po' di prove per far partire questo display. Ce la faremo a farlo partire. Ok, procediamo. Adesso avvicino un po' per mostrarvi, insomma, potete tenere d'occhio. Guardate, ad esempio, questo punto, piuttosto che anche la costruzione dei vari frames mentre noi giochiamo. Vedete che non ci sono impuntamenti. Il gioco viene riprodotto senza che ci siano problemi di alcun genere dal punto di vista grafico. Ecco, magari qualcuno potrebbe storcere il naso perché il display non è un full HD, però tutto sommato, vedete, il livello di luminosità e i colori sono, secondo me, più che buoni. Allora, mi dimentico sempre da che parte, insomma, andare a litigare con il telefonino per uscire dal gioco. Quindi vedete un buon livello anche da questo punto di vista. Vediamo, se mi riesce, l'impresa impossibile di mostrarvi, ma non con Radio Number One TV, ma con Radio Number One.it. Ecco dunque il sito di Radio Number One. Proviamo subito ad attivare lo streaming. Allora, audio in questo punto. Vedi, quest'altro è il microfono, questo è l'altoparlante. Audio con... E-mail.it, E-mail, la persona al centro del nostro impegno. Allora, è un buon livello di volume, bisogna dire che è un buon livello di volume con una buona, discreta qualità dell'audio. Quindi tutto sommato un telefono che si comporta comunque bene. Diamo un occhio anche ai menu per renderci conto, spegniamo anche tra l'altro questa parte, di come si comporti essenzialmente il telefono, di quali siano le possibilità di personalizzazione. Vedete che non sono onestamente tantissime. Vediamo la personalizzazione, vedete essenzialmente non ci sono tante possibilità di intervento sul telefono. Per quanto riguarda l'impronta digitale, potete essenzialmente scegliere di utilizzare per scattare le foto con il tocco del pulsante del sensore delle impronte digitali. Avete anche la possibilità tra l'altro di evitare che il telefono si attivi quando è nelle tasche oppure in una borsa. Però vedete non c'è granché di personalizzazione. Le vere personalizzazioni sono quelle dei temi che trovate in questo punto del telefono, vi permettono anche di cambiare le icone piuttosto che di scegliere ovviamente degli sfondi che sono stati creati per questo telefono. C'è da dire però che non c'è la possibilità di scaricarne di nuovi, almeno per quanto riguarda i temi. Vedete quelli che sono a bordo sono quelli che potete utilizzare, non c'è la possibilità di ulteriori download. Insomma, un telefono che arriva a 199 euro, un telefono che ha un buon aspetto secondo me dal punto di vista estetico. Magari diciamo che questi sono oggetti che non è che si contraddistinguano proprio per un'originalità del design assoluta, però tutto sommato secondo me un buon livello generale del prodotto. Per 199 euro tutto sommato è un oggetto che si comporta bene e che, insomma, con un display da 5 pollici, con delle caratteristiche tutto sommato abbastanza comuni. Ecco, Android 6.0 a bordo, una batteria da 2250 mAh. Questa è l'unica cosa su cui ho qualche perplessità, però diciamo che è un telefono che definirei nella media. Diciamo che non c'è nessun punto particolarmente negativo, a parte forse il display con una definizione un po' ridotta. Forse però manca anche di qualche elemento di eccellenza che lo possa far spiccare rispetto alla concorrenza. Grazie.